La mia attività parta nel 2011 quando ho deciso di aprire una partita IVA e di conseguenza un'azienda agricola. Già prima come hobby allevavo degli animali, le pecore e poi ho deciso di intraprendere questa strada. La mia attività è suddivisa in più settori, uno di questi è l'allevamento della pecora di Salamon che stiamo provando a rivalorizzare e per fare questo c'è bisogno di un aumento dei capi. Poi coltivo anche il fagiolo di Lamont che è un IGP e produco farina da polenta di mais e eseguo lavori agricoli senza contare lo sfalcio che faccio durante il periodo estivo per dare da mangiare d'inverno ai miei animali. La forma di allevamento che pratico è una forma di allevamento semistanziale, ovvero nel periodo invernale le gestisco in sede dove ho una stalletta e do da mangiare il fieno che autoproduco. Nel corso del periodo estivo, primaverile estivo e altunnale, mi alzo e mi abbasso secondo le esigenze. In quota non arrivo mai sopra i 1500 metri di altitudine e pascolo in questo periodo i prati di montagna. Sono partner del progetto Sheephole Chain, del quale sono anche contento perché mi aspetto di avere un aiuto concreto nell'aumentare i capi di questa razza in via d'estinzione. Grazie a tutti.